Parlerò solo un'oretta, così arriviamo all'accensione dell'albero. No, a parte gli scherzi, voglio unirmi ai ringraziamenti di Cristina, a ringraziare di Cristina, ma a tutte le persone che come un mosaico hanno messo un tassello e hanno realizzato questo bellissimo pomeriggio. Tra poco avremo spazio alla musica, abbiamo anche i babbo e i friends, che chi vuole farsi la fotografia sono arrivati, per i suoi bambini se sono ancora in tempo, a parte che adesso ormai la letterina non si scrive più, mandano via la PEC che mi dicono a babbo Natale, però se qualcuno non ha ancora fatto la letterina la può consegnare a babbo Natale. Invece a tutti voi vi auguro un buon Natale, delle buone festività e viva Rosalina Mare, viva Rosalina Mare tutto l'anno. Grazie a tutti. ... dell'accensione del nostro e anche vostro albero del turista. Da cinque anni appunto lo chiamiamo l'albero del turista, ma è un po' l'albero di tutti, perché è addobbato con palline provenienti da turisti ed amanti di Rosalina. È una festa dedicata ai bambini, nella speranza che nel loro cuore ci sia sempre serenità, felicità e amore. Anche oggi, grazie allo spirito natalizio che abbiamo cercato di creare per loro. Anche oggi, grazie allo spirito natalizio che abbiamo cercato di creare per loro. Anche oggi, grazie allo spirito natalizio che abbiamo cercato di creare per loro.